ma com'è qui non passa nessuno ma mai fossi messa una strada sbagliata prima passavano un sacco di macchini oddio e che ne ho avuto eccolo eccolo lavaggio lavaggio mi potete dirmi corluto cerchiamo il lavaggio stradale signor signor si bevelo facciamo tutto a furgoncini, biciclette e motorini bevete signor 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 ecco qui lavaggio completo disinfettato e tutta gratuito questa è la ditta cardinale seria signor 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 grazie signor 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 ne vengamo altra venga metta il treno a mano che diamo una bella pulitina al vetro una bella pulita niente e che è un altro ebbete sa la ditta cardinale è una ditta seria di cristalli, di fallucidi e splendetti è un lavaggio veloce e precisa è trofatta a lavorare il gran cornuto pappone ma questo è il computatore? commentatore commentatore sto qua lo sai come accontenta il commentatore? si fermi commentatore che corpino ha ritrovato il commentatore? commentatore si fermi che a noi gli uscita tutta la macchina poi gli do una bella pulita ai vetri e la macchina diventa quasi nuova ma pure qua sta quasi nuova ma cosa sto facendo? sto lavorando sto lavorando per campare ma vada tu ma come dovevo pulire la macchina? vedratti così posso la ammazzate avanti l'altra stiamo calmi che passiamo tutti venghino 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 non si impicci lei stia tranquillo venghino ci sono i soldi mille grazie vada avanti ne vengono un'altra avanti Grazie a tutti.